Quanti titoli deve avere un portafoglio di investimento per ritenersi completo? Vediamo insieme! Ciao ragazzi, io sono Federico e benvenuti su The New Finance. Oggi parliamo dell'investimento minimalista o, con un linguaggio più internazionale, il minimalist investing. La domanda da cui partire è, quanti titoli servono per avere un portafoglio di investimento completo? Il minimalist investing altro non è che un'espressione suggestiva che sta ad indicare l'applicazione del minimalismo al mondo degli investimenti. Il minimalismo altro non è che uno stile di vita, un modo di pensare che ha l'obiettivo di eliminare tutto ciò che è superfluo. Analogamente è possibile applicare il minimalismo al mondo degli investimenti. Per riuscire nello scopo ci servono i nostri matissimi ETF. Difatti gli ETF sono strumenti a basso costo, facilmente acquistabili e vendibili, e altresì molto diversificati per natura. Io ho individuato un portafoglio composto da soli tre ETF. Provate le versioni di questo portafoglio in descrizione. Ebbene sì, perché ho creato diverse versioni. Innanzitutto una che si preoccupa del rischio valutario e un'altra che invece ignora il rischio valutario. E in secondo luogo ho creato una versione a distribuzione e una ad accumulazione. Il criterio di scelta su quale versione adottare prevede una serie di valutazioni che ognuno di noi deve fare. Primo, voglio massimizzare la mia crescita del capitale o voglio crearmi una rendita? E allora sceglierò o l'accumulazione o la distribuzione. Secondo, accetto il rischio valutario oppure no? Nel lungo periodo il rischio valutario tende a calare. Nel senso che le valutazioni, i cambi di valuta tendono ad essere stabili nel tempo. Quindi è più che altro una scelta di prudenza per il medio periodo. È chiaro che la massima diversificazione possibile la si ottiene con la versione che incorpora il rischio valutario. Non sto qui a dirvi i singoli easing o i symbol. Ripeto, guardate in descrizione per andare all'articolo sul mio sito che riporta tutte e quattro queste versioni. Sapete che la principale differenza tra la versione euro e la versione dollaro sta nel fatto che la versione euro ha principalmente in pancia titoli denominati in euro. Non totalmente perché non è possibile esporsi sull'azionario globale con solo titoli denominati in euro. Ma è la componente obbligazionaria che comprende titoli denominati in euro. La versione dollaro invece ha come componente obbligazionaria il panorama globale del mondo obbligazionario. Qual è la logica dietro questi ETF? Ho inserito un ETF che al suo interno ha titoli governativi, investment grade. Ho inserito poi un ETF composto da bond corporate, quindi l'obbligazionario societario. E' un terzo ETF che ha come benchmark l'intero panorama azionario a livello globale. L'indice di riferimento è l'All Country World, che quindi a differenza dell'MSC World comprensivo dei paesi emergenti. Il peso di ogni singolo ETF deve essere scelto in base alla vostra propensione al rischio. Ed in base a quella si darà più o meno importanza alla componente obbligazionaria. In questi ETF non ho inserito una componente obbligazionaria iYield, di conseguenza ho preferito sbilanciarmi un pochino di più sull'azionario piuttosto di inserire una componente obbligazionaria iYield. Altro dettaglio, manca una componente obbligazionaria emergente. Per le percentuali, ancora una volta, descrizione. Ma perché dovremmo avere questo approccio al mondo degli investimenti? E' un approccio economico, perché il costo commissionale per acquistare 3 ETF è veramente basso. E' un approccio diversificato, perché il portafoglio pensato è diversificato, sia geograficamente che per settore. Inoltre è di una semplicità disarmante, basta letteralmente avere solo un conto bancario per poter acquistare questi 3 ETF. Allo stesso tempo vi garantisco che probabilmente con un portafoglio di questo tipo, per quanto semplice, battereste la maggior parte delle performance degli investitori retail. Detto questo, una opinione personale, non fatevi ingannare dalla distribuzione, ha senso solo per capitali importanti. Dopotutto, chi di noi non vorrebbe vivere di rendita? Quindi a meno che non abbiate intenzione di investire diverse decine di migliaia di euro, vi invito a considerare l'accumulazione, che è anche fiscalmente più efficiente. E vi metto in descrizione anche una simulazione su quanto la fiscalità incida su un investimento a distribuzione rispetto ad un investimento ad accumulazione. Detto questo, iscrivetevi al canale, siamo poco meno di 100 iscritti, ma stiamo crescendo velocemente. Io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Ciao!